L'ultima cosa che voglio dire è importante è questa, vedo c'è qualche collega dirigente, ci sono molti insegnanti, siamo partiti ieri con l'azione degli animatori digitali, non facciamoci troppo la testa, l'idea dell'animatore digitale era cercare di valorizzare le persone che già fanno questo nelle scuole, da una parte, e dove non c'è farlo creare, perché il vero problema per me, che conosco questo ambiente della scuola digitale da vent'anni forse, il vero problema non è dove già c'è chi fa delle cose, che è già remunerato, che già fa della formazione, che già ha un suo ruolo, il vero problema è dove non c'è questo, le 8.500 scuole italiane, noi non abbiamo un dato, forse a breve lo avremo, su quante scuole già hanno un animatore, abbiamo un dato nazionale, i formatori iscritti nelle liste, quelle che vengono utilizzate per i corsi di formazione sulle tecnologie, sono 2.400, in alcune regioni sono doppi, perché ci sono stati, come dire, hanno svalicato i confini regionali alcuni formatori. Capite bene che 2.400 rispetto a 8.500, se anche ce ne fosse uno solo per scuola, siamo sotto. Quindi che cosa vuol dire questo? La preoccupazione nostra chiaramente è cercare di far sì che in ogni scuola ci sia un qualcuno che faccia animazione, che non aggiusti le macchine, perché anche per quello nel piano è stato pensato qualcosa, ma che metta insieme le famiglie, gli studenti, gli insegnanti, faccia della formazione, faccia degli eventi, metta in piedi il coding su tutte le classi, realizzi qualcosa che porti a sistema il digitale. È la prima volta che si fa, attenzione.